E oggi siamo sul campo Mario Vecchio per la Calpazio, a fianco a noi due personaggi della Calpazio, il maresciallo e il professore. Ai due cugini gli domandiamo una sintesi molto brevemente sulla partita, cosa ne pensate? Una partita bella, aperta, però da chiudere con il risultato, perché 1-0 è ancora molto discutibile, è aperto. Al maresciallo è molto teso, aspetta l'esito finale. Partite da chiudere subito, perché queste sono quelle classiche partite che se non le chiude diventano pericolose. E l'abbiamo visto nella prima fase di gioco. No, lo potevano anche riprendere, però l'importante è mantenere i risultati e, ripeto, chiudere. E dal Mario Vecchio è tutto, grazie a voi.